Sciopero generale dei lavoratori del settore energia per il rinnovo del contratto nelle marche coinvolti dipendenti di Saipem, Sindala, Fano e della raffineria Api di Falconara, in servizio di Maria Chiara Perdi. Colletti bianchi e tute blu uniti nella mobilitazione dei lavoratori del settore energia e petrolio per il rinnovo contrattuale. Alta adesione anche nelle marche alla giornata di sciopero generale indetta dai sindacati di categoria Filtem CGL, Femca Cisle e Wiltec Will. Hanno incrociato le braccia tre quarti dei dipendenti di Saipem, colosso dell'energia che a Fano ha la seconda sede più grande in Italia, con oltre 800 impiegati nel comparto ingegneria. Si sono riuniti in picchetto davanti ai cancelli dell'azienda nella zona industriale di Bellocchi insieme ai colleghi di Sindial, società del gruppo Eni. Credevamo di essere arrivati alla dirittura d'arrivo per la firma del contratto, invece abbiamo trovato in Confindustria Energia una retromarcia, come dire, incomprensibile, che riguarda aspetti economici e normativi. Chiediamo la ripresa e la firma di questo contratto in un settore che produce in questo momento un'altissima redditività. Chiediamo che la redistribuzione della redditività sia data anche ai lavoratori. Rivendicazioni salariali in primo luogo, ma anche sui meccanismi di valutazione dei lavoratori e soprattutto sulle relazioni sindacali, che si ritengono intaccate dalle controparti datoriali. Sarebbe stato infatti già disatteso l'accordo raggiunto nel marzo 2018 sul modello contrattuale e sulle condizioni in materia. I lavoratori hanno il diritto che il loro contratto venga rinnovato e venga rinnovato nelle modalità corrette per tempo e senza andare a far tirare a ribasso sempre su quelle che sono le proposte delle segreterie nazionali, senza cercare addirittura di togliere quello che è stato già dato ai lavoratori nel rinnovo precedente. Anche alla raffineria Api di Falconara, che conta 340 dipendenti in gran parte operai, in molti hanno aderito allo sciopero.